Musica Dopo quasi 20 anni il concorso nazionale di Miss Italia torna nelle Marche. Ad ospitare le pre-finali sarà la città di Fano che per la prima volta accoglierà dal 16 al 19 settembre 197 ragazze, vincitrici dei titoli regionali assegnati durante le 350 selezioni che hanno animato le piazze di tutta la penisola. Ho avuto un modo di conoscere la signora Merigliani e da uno scherzo parlando così gli ho detto ma perché non venite nelle Marche dopo 20 anni a fare le pre-finali e da cosa nasce cosa siamo riusciti a convincere. Poi ho trovato la collaborazione del comune, una persona di Etti e Lucarelli e anche dell'associazione albergatori con Luciano Cecchini e questa cosa ha preso forma. Devo dire non è stato facilissimo ma avere le pre-finali è una cosa importante per la città, significa avere centinaia di presenze da tutte le regioni, la stampa di settore, fare in modo che si associ la parola Fano, la nostra bellissima città, a un concorso famoso ma soprattutto all'idea di bellezza. Quindi è un connubio che in altre parti d'Italia ha avuto anche un grande lascito economico quindi a noi ci interessa quello, ci interessa anche l'Indotto, ci interessa che la città di Fano così come le Marche siano anche al centro di Kermess importanti come questa. E a proposito di Indotto, il presidente degli albergatori stima circa 1600 presenze in città legate all'iniziativa che prevede per la prima giornata la presentazione delle ragazze al pincio alla presenza del pubblico. Poi il sabato e la domenica le concorrenti verranno valutate a porti chiuse da una giuria tecnica al Teatro della Fortuna mentre la sera del 18 settembre si tornerà di fronte all'arco d'Augusto per l'annuncio delle 21 Miss, una per regione, che accederanno alle fasi finali del concorso nel mese di ottobre. Infine il lunedì rimarranno nella nostra città. Le ragazze saranno impegnate con noi a valorizzare la nostra enogastronomia in delle collaborazioni aperte con le attività economiche della città, le porteremo nel territorio magari a fare delle video, immagini che possono rappresentare al meglio la nostra destinazione. Vogliamo che questo momento sia un momento che ci possa rappresentare al meglio, rappresentare anche i valori culturali, visto questo sforzo che sta facendo il concorso per rappresentare anche questo. Un lavoro che facciamo già da circa un mese con le attività economiche, che arriva alla fine della stagione balneare e che comunque per una settimana intera continua a riempire strutture alberghiere, che quindi continua a movimentare l'economia. E quindi devo dire un bello sforzo da parte della nostra città, degli attori che stanno lavorando con noi, grazie anche a questo supporto, questa decisione della regione Marche, di portare appunto nelle Marche e di scegliere la città di Fano proprio per questo concorso storico. Il paese è alle prese con tante difficoltà, aggiunto alla patron di Miss Italia, ma le ragazze si sono dimostrate consapevoli e responsabili e il concorso ha proseguito alla possibilità di far conoscere un gruppo rappresentativo della nostra gioventù davvero di grande livello. Mirigliani ha poi segnalato l'elezione di Miss Marche 2022, la civita novese Glelani Cavalcante, italo-brasiliana di 28 anni. Patrizia è un concorso che vanta ben 83 anni di storia, un concorso che si evolve e che di certo non punta solo alla bellezza. Miss Italia non ha mai forse puntato unicamente alla bellezza, perché le nostre ragazze hanno sempre raccontato il momento storico che l'Italia viveva in quei 83 anni, immaginiamoci quante storie di donne sono uscite dal concorso e quante cose sono successe. Berselli disse che Miss Italia era lo specchio dell'Italia e lo siamo veramente. Non dimentichiamo che sono circa 10.000 ragazze l'anno che si iscrivono a Miss Italia, quindi è un osservatorio importante sul mondo giovanile e vogliamo raccontare le giovani ragazze come vivono questo momento. Viste da esperti di settori diversi, che poi vi diremo, ma già la presenza della maglia è importante perché dimostra che c'è, diciamo, un cambiamento di rotta anche in questo, racconteremo queste nuove ragazze. Zeudi sta per terminare questo anno intenso da Miss Italia. Che cosa lasci e che cosa ti aspetta? Esattamente. Sicuramente quello che lascerò, spero, ecco, essendo che ho girato tutta l'Italia, di aver dato contenuti significativi in tutte le regioni che ovviamente ho visitato. Ed è bellissimo, ovviamente, quello che prendo, perché prendere una maggiore consapevolezza di me stessa, più sicurezza e più anche aspettative per il futuro, perché Miss Italia dà anche questo, tantissime opportunità. Miss Italia è bellezza, Miss Italia è cultura anche, quindi siamo felicissimi anche di fare qui le pre-finali a Fano. E i progetti? I progetti ne sono tanti, ovviamente io da buona scaramantica napoletana ecco, non le dico prima ancora che non sono compiuti. Bocca al lupo. Grazie mille.